Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con gli eventi di Promoserio. In occasione del cinquecentenario della nascita di Giovanni Battista Moroni, continuano ad Albino gli eventi e le conferenze dedicate a questa speciale ricorrenza. Ritorna anche quest'anno l'appuntamento gastronomico della Sagra degli Gnocchi Ripieni, a cura della Trattoria Moro di Albino, legato alla tradizione della buona cucina casalinga bergamasca e che in questa edizione includerà alcuni piatti dedicati proprio a Moroni, illustre con cittadino. Apertura della Sagra, mercoledì 14 luglio alle ore 18.30 con servizio cucina e gonfiabili. La manifestazione proseguirà poi fino a domenica 18 luglio con trucca bimbi, gonfiabili, arti e mestieri dal vivo e una gara di corsa in montagna a cura del gruppo sportivo Marinelli. Per scoprire tutti gli appuntamenti visitate il nostro sito www.valseriana.eu o chiamatelo 035 70 40 63. Sabato 17 luglio dalle ore 15 alle ore 18 presso il Parco Giochi di Via MES a Val Bondioni, la Compagnia del Regnocco è pronta a intrattenere grandi e piccini con i giochi in legno di una volta. A seguire, musica dal vivo in piazza con i Second Function. Per maggiori informazioni e le prenotazioni, contattare Turismo Val Bondione allo 0346 44 665 o al 320 439 7505. Domenica 18 luglio si svolgerà la quarta edizione della Valseriana Marathon, competizione che attende i bikers più competitivi a Guerriti con un percorso rinnovato su un tracciato di 37 km e 1700 m di dislivello. Partenza dalla gara alle ore 9 di domenica 18 luglio. Per maggiori informazioni e le iscrizioni, visitate il nostro sito www.valseriana.eu o chiamatelo 035 70 40 63. Passiamo ora ai numerosi appuntamenti per scoprire le ricchezze naturalistiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche della Valseriana e della Val di Scalve. Sabato 17 luglio a Clusone, distretto del commercio Alta Val Seriana, in collaborazione con Artiglie, organizzano una camminata adatta a tutti che vi guiderà fino al monte di San Lucio, nella località Beur che domina tutto l'altopiano. Il percorso tra natura, arte e magia proseguirà poi verso il roccolo Zuccone, fra elfi, testi poetici e sculture di animali nel bosco. Ritrovo alle ore 15 e 30 presso il parcheggio della località La Spessa per raggiungere con mezzi propri la località Beur. A seguire, merenda per tutti. Info e prenotazioni allo 035 70 40 63 o al 342 389 7672. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il ciclo di appuntamenti organizzati dai borghi della Presolana tra Borghi Sapori, un ricco calendario di esperienze da vivere per scoprire le ricchezze naturali, artistiche e gastronomiche di Rovetta, Onore e Son Gavazzo. Prossimo appuntamento sabato 17 luglio a Son Gavazzo con Aspasso tra le Rime. Visita guidata poetica al tramonto a due voci, quella della storica dell'arte e guida Laura Benzoni e dell'autrice di poesie e racconti Laura Maria Filisetti, che leggerà componimenti in prosa e poesia legati ai luoghi che si andranno a visitare. Al termine, possibilità di cena offerta presso il ristorante Bar Derby di Son Gavazzo. Per maggiori info e prenotazioni 0346 72 220 o 035 70 40 63 oppure visitate il sito www.borghipresolana.com Sempre per il ciclo tra borghi e sapori, domenica 18 luglio torna il gettonato Turi Nevaic tra Campi e Sapori. Escursione enogastronomica a tappe in Nevaic lungo un percorso cicloturistico che attraversa i centri storici di Rovetta, Onore e Son Gavazzo per condurre nelle aree agricole dove viene coltivato il maestro strato rosso, eccellenza gastronomica del territorio. Ritrovo alle ore 9 presso il noleggio Clusone by Fornoni Roberto in via Querena 54 a Clusone. Per maggiori informazioni e per le prenotazioni 0346 72 220 o 035 70 40 63 oppure visitate il sito www.borghipresolana.com Per questo appuntamento è tutto. Vi ricordiamo che potete trovare maggiori informazioni su tutti gli eventi della settimana in Val Seriana e in Val di Scalve visitando il nostro portale www.valseriana.eu e prenotare direttamente online la vostra visita sulla piattaforma Esperienze. Arrivederci e buona serata! Promo Serio Eventi Eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e in Valle di Scalve